Valutazione dei servizi. Questo l'obiettivo dei questionari che i cittadini potranno compilare per giudicare l'attività svolta dal personale amministrativo del comune di Sciacca. Sono state già collocate tre cassette dove insiste la maggior parte degli uffici, all'altro superiore del Palazzo di Città, all'URP di Corso Vittorio Emanuele e all'Istituto Sant'Anna, dove poter imbucare i questionari compilati. Un'attività di controllo che il sindaco Francesca Valenti aveva già promesso di attuare in campagna elettorale. È proprio una valutazione che viene imposta dal legislatore, che riguarda proprio i servizi resi dall'amministrazione, che giustamente poi hanno una loro rilevanza nella valutazione della performance organizzativa. Quindi diventano un parametro di valutazione dell'attività e del raggiungimento degli obiettivi. Quindi diciamo che è una cosa importantissima, che è una rilevanza fondamentale e che è stata attivata immediatamente. In realtà era un impegno che io già avevo assunto in campagna elettorale, è stata attivata. E già da oggi ci sono sia nell'Atreo Comunale che al Sant'Anna che all'URP, ci sono questi contenitori, queste cassette, con i questionari che gli utenti, i cittadini, possono compilare per valutare la qualità dei servizi che vengono resi dal personale amministrativo. Quindi è di fondamentale importanza perché poi ha una sua rilevanza nella valutazione complessiva. Nello specifico di quali tipi di servizi parliamo? Tutti, tutti i servizi resi ai cittadini, tutti. Quindi il cittadino che viene al Comune per il disbrigo di una qualsivoglia pratica, poi valuterà come questo servizio è stato reso. Quindi non rientrano tutti i servizi e tutti i settori. Una volta ricevute queste valutazioni passeranno al vaglio di chi? Lo manderemo all'organismo di valutazione perché, ripeto, hanno una rilevanza fondamentale, non è più soltanto una sorta di indagine, ma una rilevanza giuridica che poi li considererà proprio ai fini della valutazione della performance. Un'idea che è già stata attuata ovunque e che adesso approda Sciacca, quindi? Sì, sì, è una disposizione legislativa. In realtà la valutazione già era contenuta nella legge del 2015, quindi comunque doveva essere stata già attivata. Poi con la riforma Madia è stata molto ampliata la portata di questo controllo che viene rimesso ai cittadini perché è come se fosse un controllo che i cittadini fanno sull'attività degli uffici e perciò è corretto perché per la prima volta finalmente i cittadini potranno dire la propria sull'attività degli uffici e soprattutto possono sapere che quello che loro diranno ha un valore. Le cassette dove poter trovare ed imbucare questionari saranno presto collocate anche davanti ogni singolo ufficio comunale e scaricabili dal sito istituzionale del comune. Un'idea quella di interpellare il cittadino sulla qualità dei servizi resi dall'amministrazione che come spiega il sindaco Valenti in futuro è possibile ampliare anche riguardo altre attività offerte alla città. Quello poi è un meccanismo ovviamente quello sì che diventa di indagine anche quello io intendo fare così come anche un modo per avere un'interlocuzione continua e diretta con i cittadini che verosimilmente possono dare anche consiglio comunque possono esprimere critiche quindi anche su questo si lavorerà. Quella ha una rilevanza conoscitiva però mentre questa è una rilevanza giuridica. Grazie. Grazie.